Bene amici, molto spesso mi chiedo, mi chiedete, ci chiediamo un po' tutti perché devo acquistare dei telefoni di cui non so la provenienza, non so il marchio In questo caso devo veramente ringraziare un utente che mi ha segnalato questo telefono sotto i 100€ su Amazon Perché non c'è bisogno di fare tutti questi conti per capire che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo Certo, costa meno di 100€ quindi non ci aspettiamo prestazioni da top di gamma Ma scopriamoli insieme E anche la confezione di questo Elite 5 convince, vi faccio subito vedere il perché Oltre ad essere verde, molto carina in pandan con il mio nuovo transformer Anche per la dotazione perché c'è una pellicola protettiva con due salviette per pulire il display Poi abbiamo qua le cuffiettine in ear che suonano devo dire bene Ma rispetto ad altri cinesoni tra virgolette che abbiamo provato Qui abbiamo anche le... vediamo se riesco a togliere tutto Ok avete già scoperto un'altra chicca ovvero il cavo OTG per poter collegare qualsiasi chiavetta USB Insomma ragazzi non riesco a toglierle ma qua dentro ci sono gli adattatori per linear E il caricabatterie non è il solito caricabatterie scarsone da 1A Bensì un caricabatterie da 2A Ricarica abbastanza veloce anche perché la batteria è importante da 4000 mAh Intanto vi apro il telefono E con un caricabatterie da 1A ci avrebbe messo veramente tantissimo Così in circa 3 ore si carica Due SIM una in un formato anacronistico veramente la vecchia mini SIM Ho dovuto scartabellare per trovare un adattatore E l'altra qua sotto invece in formato micro SIM Abbiamo la micro SD per espandere la memoria a disposizione Che può diventare archivio di massa principale Richiudiamo il tutto Lo accendiamo e vi faccio vedere il design Molto curato Sopra c'è anche l'emettitore a infrarossi Oltre a micro USB e il jack per le cuffie Da questa parte il pulsante per il volume Qua a destra l'accensione e spegnimento Mentre faccio vedere come di taglio il nero non sia bellissimo Ma ne parleremo dopo Qua sotto abbiamo il microfono Non c'è il secondo microfono Camera posteriore da 13 megapixel 8 davanti Flash LED Ma soprattutto la cura del dettaglio mi piace tanto Guardate per esempio la camera qua dietro Con questo anello che secondo me è metallico Anche questi particolari rossi veramente niente male I pulsanti sono purtroppo non retroilluminati Sono qua vedete fuori dal display Non pesa tantissimo 176 grammi Sembrano meno In realtà 8.9 mm di spessore Ma soprattutto è un telefono con una parte posteriore gommata Che si tiene bene Ha il doppio tap per l'accensione Ovviamente si può attivare e disattivare Ci sono tante gesture E la personalizzazione del software La vediamo già in fase di accensione Vedete possiamo fare uno swipe e gestire 4 scorciatoie Andiamo a sbloccare il telefono Vi parlo subito di display Display che è un 5 pollici e mezzo HD Non ha tantissimi ppi Ne ha 267 Ma devo dire che al netto di quello che vi ho fatto vedere prima Ovvero del nero che non è nerissimo Se lo guardiamo in Italia nell'uso di tutti i giorni non è male Perché la griglia dei pixel Diciamo la palette colori viene ben riprodotta L'angolo di visuale è da IPS Lo vedete Non è male Vediamo le sedie non sono male I neri vi ho detto prima sono un po' gregini Ma vabbè E la griglia viene riprodotta come su tutti i telefoni che hanno il display HD Con questa righina un pochino più sottile Ma nel complesso non male Torniamo indietro C'è anche il led di notifica RGB Settabile dai Dalle impostazioni Ovviamente E tra l'altro uno dei pochi telefoni in cui i tasti qua sotto Pur essendo fuori dallo schermo Vibrano anche quando attiviamo la vibrazione Uno dei pochi telefoni con Mediatek Perché qua abbiamo un Mediatek 6735 Che fa quasi miracoli Fa quasi miracoli in abbinata alla batteria Da 4000 mAh Un display HD Io ci ho fatto quasi due giorni di utilizzo stress Veramente una grandissima accoppiata Ecco qua Marcello Che mi Che è a maniera di protagonismo e quindi vuole entrare nei miei video Come molti telefoni con ROM Mediatek Ha lot Knock Andiamo a vedere Le reti cellulari Possibilità di attivazione del 4G LTE Gli manca la banda da 800 MHz Il wifi funziona invece bene Una piccola mancanza sul display Ovvero la luminosità Il senso di luminosità non funziona benissimo Ci mette circa 5-6 secondi ad adattare E quando attiviamo la luminosità adattiva Va a scomparire Va a scomparire la possibilità di modificare qua dai toggle rapida la luminosità Quindi io su questo telefono ho preferito lasciarla manuale e utilizzare i toggle per alzare e abbassare la luminosità Nessun problema sotto il sole Anche perché il display come vedete è abbastanza oleofobico Vi faccio vedere le particolarità di questo launcher Abbiamo i temi Ce ne sono tanti sia offline che ho scaricato Sia online Se ne possono scaricare di nuovi Ne vengono viaggiornato spesso questa sezione temi E tra l'altro anche i wallpaper si possono avere sia online che locali Ovviamente quelli che abbiamo scaricato E ce ne sono tanti carini Vedete lo store di questo telefono non è assolutamente male Torniamo alla home Non so se avete notato alcuni effetti Quando mi muovo Vedete queste palline che si vedono qua sul launcher Tasto sinistro menu Ecco purtroppo multitasking si attiva tenendo premuto la home E questo vuol dire che per attivare Google Now bisogna andare a fare tap sull'applicazione Ma più che altro il multitasking è bruttarello Guardatelo qua con icone piccole da andare a cliccare Scomodi nell'uso una mano Tra l'altro purtroppo non ci sono implementazioni per uso una mano Ma vi stavo parlando del launcher Si possono andare a settare Vedete degli effetti Questo è l'effetto speciale che ho settato con la neve Quando scorriamo qua Tra l'altro abbiamo un launcher dove possiamo avere tutte le applicazioni nelle varie pagine Non c'è il drawer Tutto a destra abbiamo una pagina dedicata alle foto e a scattare nuove fotografie Tutto a sinistra invece abbiamo la pagina dedicata alla musica Mi ricorda un po' la grafica di Oppo Questa schermata tutta a destra e tutta a sinistra Molto carina anche la possibilità in fase soprattutto di implementazione e di installazione delle applicazioni Andare a cliccare più e decidere che applicazioni mettere in una determinata cartella Rispetto a tutte quelle che sono nel desktop Ovviamente non ci fa vedere le applicazioni che abbiamo in altre cartelle Purtroppo il launcher non è compatibile con alcuni widget tipo Kronos Vedete qua non mi fa vedere il calendario E soprattutto c'è un baguettino ovvero quando andiamo a installare e disinstallare delle applicazioni dal Play Store Le applicazioni che andiamo a installare rimangono nascoste Non vengono visualizzate sul launcher Stessa cosa se andiamo a disinstallarle Guardate adesso io disinstallo Enjoy e vedrete che l'iconcina Ecco fantastico adesso è sparita Ma molto spesso rimane Ci vuole uno spegnimento o una recensione per farla ricomparire Oppure cancellare in base a se ho installato o disinstallato Vabbè niente di particolare Parliamo di parte telefonica Sono tutte cose che non sono drammatiche da gestire Dual SIM gestito bene alla media Con la possibilità di rendere predefinta una SIM o l'altra Il 4G a caldo switch da una SIM all'altra Altoparlante dietro Allora il viva voce non è il massimo perché non per quanto riguarda l'altoparlante che sente bene Ma dall'altra parte ci sentono veramente male Ma per quanto riguarda invece la capsule auricolare e come ci sentono quando non utilizziamo il telefono di viva voce Devo dire promosso purtroppo non ci sono le suonerie distinte tra le varie SIM, SIM 1 e SIM 2 Vedete la suoneria telefono è solamente singola Torniamo alla home andiamo un po' a vedere la velocità e l'attività generale del telefono Che devo dire non è male Apriamo il gestore delle pagine Facebook Tra l'altro in questi giorni di utilizzo non ho mai avuto un blocco Segno che il software comunque c'è della cura c'è dell'attenzione Andiamo qua scriviamo qualcosa Anche la tastiera che è quella stock di Android si comporta bene Ok non ho fatto particolari errori Ovviamente parlare e scrivere non è il massimo Ma devo dire che ripeto è una tastiera che convince anche il feed della vibrazione Non è assolutamente male Purtroppo ci sono alcuni menu che non sono tradotti in italiano ma solamente in inglese C'è ancora la vecchia dicitura trasmissione FM Per esempio alcune applicazioni sono ancora quelle di versioni arcaiche di Android Guardate per esempio l'applicazione musicale ma anche l'abbiamo visto prima L'applicazione della galleria è proprio con l'interfaccia vecchia Se vi faccio vedere il menu vi faccio vedere qualche funzione particolare Allora andiamo giù ci sono le gesture motion che praticamente sono delle gesture per attivare queste Queste scorciatoie rapide torniamo torniamo indietro La possibilità di personalizzare le notifiche Gli MMS praticamente sono tutte le notifiche chiamate perse Batteria bassa batteria piena con i vari livelli di luminosità Cioè di luminosità di colore del del led Per il resto nulla di nuovo Non vi ho fatto vedere le informazioni sul telefono Abbiamo Android in versione 5.1 2 giga di RAM 16 gigabyte di memoria integrata Andiamo a provare il browser Apriamo Chrome Automoto.it C'era Andreagalazzi.com Ok apriamo allora Andreagalazzi.com Sì sono sopravvissuto la giornata con lo smartphone da 99 euro Anche quello che sto provando è un telefono che non costa Molto più di 99 euro come prezzo standard L'ho pagato meno, l'ho trovato in offerta su Amazon Ma diciamo che lasciamo alla fine le considerazioni su questo telefono Gira, devo dire bene, browser Chrome Proviamo un sito non ottimizzato per il mobile Automoto.it E ci andiamo subito Vediamo se ho attivato il desktop mode Sì ok l'avevo attivato Col pulsante qua sinistra purtroppo si attiva sempre il menu e non il multitasking Ma questo ve l'ho già fatto vedere Allora segue abbastanza bene le mie dita Lo vedete Automoto che è un sito abbastanza pesante Però viene ben gestito da questo telefono che ha un pregio Ovvero quello di non scaldare mai Nemmeno sotto tortura qua dietro dove c'è il processore Il gaming direi che non ve lo faccio vedere Real Racing l'ho scaricato, l'ho usato ma è veramente molto lento Forse la parte più deficitaria del telefono Insieme forse alla fotocamera Allora vai di transformer, facciamogli una foto macro Ti faccio vedere la velocità di messa a fuoco tra lontano e vicino è abbastanza buona Diciamo un secondino per mettere a fuoco Ci sono dei miglioramenti alla interfaccia stock di Mediatek della fotocamera Vedete abbiamo l'HDR qua in prima funzione Se entriamo nelle impostazioni invece cadiamo nel solito problema Che hanno praticamente tutti i telefoni con questo processore E con questo software Da questo punto di vista della fotocamera forse poco ottimizzati Guardate 13 megapixel sia a schermi intero ovvero in 16 noni Sia in 4 terzi Quando la fotocamera è comunque a 13 megapixel Quindi da qualche parte c'è qualche interpolazione E lo si vede nei risultati delle fotografie Perché sono questi i risultati della fotografia Andiamo nella cartella della fotocamera Allora non sono malissimo Diciamo più che sufficienti per i social La solita fontana Qua una macro abbastanza bella sul fiore Incredibile regge a febbraio ancora un fiore Foto con poca luce così così Il flash illumina abbastanza bene Soprattutto si tara bene come livello di luminosità Senza flash con poca luce invece qualche problemino Camera anteriore ad 8 megapixel Anche qua voto 6, 6 e mezzo massimo Queste sono le foto fatte al mio solito caffè del mattino Foto molto colorate Questa con HDR e questa senza HDR Per quanto riguarda i video che mi sono accorto Può girare solamente in HD non in Full HD Infatti se vado nelle impostazioni qua della fotocamera Pur avendo impostato nella risoluzione dei video La qualità massima che è la qualità fine I video vengono in HD A720 Che comunque non sono male in assoluto L'audio è abbastanza buono Avvicio prima della radio FM Vi faccio ascoltare Bublé Alziamo il volume Perché è così squillante il volume che è anche un po' bassino Per quanto riguarda la musica Perché ho dovuto tararlo con l'equalizzatore Quando ho messo le cuffie Perché altrimenti l'audio era veramente troppo cupo Tarato devo dire che non è male Allora io l'ho preso in offerta su Amazon a 90€ Non potevo fare affare migliore a quel prezzo Si trova sugli store cinesi a poco più di 100 A 120 su Amazon a prezzo pieno Però il software è curato Affidabile Un buon display per la fascia di prezzo Di scarso ha purtroppo la fotocamera Che comunque è accettabile E la fluidità dei giochi Real Racing Al limite dell'ingiocabilità Ma quello che si cerca da un telefono base Che costa 90-100€ È che sappia fare il telefono E questo lo sa fare La parte telefonica è buona La ricezione è ok Ripeto manca la banda da 800 MHz Ma le chiamate comunque non sono mai problematiche Ha una batteria che dura E qua dura E deve essere un telefono affidabile In attività quotidiana Non si deve bloccare Facebook, Twitter Le applicazioni generaliste Devono girare bene E qua devo dire che tutte queste applicazioni Che vi ho menzionato Girano bene Vedete Ve l'ho fatto vedere nel corso della prova Insomma Per 90€ Non potevo fare un acquisto migliore Sì è vero Le applicazioni, il launcher Possono piacere o non piacere Ma Android lo sapete È molto personalizzabile E allora andiamo a personalizzarlo Prossimo video Come ti cambio questo telefono Un saluto da andrea galeazzi Punto com Un saluto da andrea gale Un saluto da andrea gale Un saluto da andrea gale Un saluto da andrea gale